Continuiamo con la copia internazionale di Carla Trezzi, la gara! Avevo interrotto perché vi si era scaricata la batteria? No, si sa per scaricare. Vai! Non ve l'avevo detto che si poteva andare anche qua sotto? No, non ve l'ho detto, ma si può anche andare lì. Quindi se cadete non è un problema. Bisogna essere molto allenati per queste gare, ragazzi, eh. Non è bello andare a sbattere. È un reato. Un grandissimo reato. Tating! Ora guardate, ragazzi, arriva il salto gigante. Figo! Ah, sono passato attraverso la cosa, bello! E ora si scende, è questa la bellezza di questo salto. Bellissimo! Aio! Che modi! Cil, una delle mie musiche preferite! Devo ammettere che me la sto cavando molto bene? Infatti ho un vantaggio di 44, di 44 e qualcosa. Ora non riesco, posso leggere perché sennò mi da concentro. Anzi, vado a sbattere, faccio degli apicferi assurdi. Quanto l'adoro sta musichetta! No, ce n'è una proprio che amo, con tutto il cuore. Non è questa, ma sarà un'altra. Sì! Sì! Ah, bello, ragazzi! Ah, non era male questo salto, gente, eh? Fighissimo! Non mi sono mai divertito così tanto in vita mia! Sì! Sì! Di qua! Di nuovo primo? No! Eh, certo che no! Ah, primo Saletta McQueen, secondo Ramon, terza Mia, quarto Fletcher, Eva. Ah, non ho visto l'altro. Vabbè. Quello mi ha chiamato complimenti Federick. Bene. Ho stabilito un record di gara. Eh, non importa. Cerco una gara dalla staffetta lungo la strada verso sud-ovest di Cofano Caldo. Ma anche sì! No, non salvare, salviamo... Anzi, per salvarci la pelle, salviamo. Non si sa mai, ragazzi, eh? Ah, quanto fremo dalla voglia di finire questo gioco per fare una parte extra. Non ho l'ora di farla. Sono così eccitato. E così continua, bene. Ah, vabbè. Dobbiamo solo aspettare che sta la pirla di roba si carica. E basta. Che lentezza! Dai, caricati! Oh! Finalmente, ragazzi, ci si vede, ciao! Ciao! Grazie.